A distanza di circa un mese dalla manifestazione organizzata sotto il comune a Roseto degli Abruzzi continua a tenere banco l'emergenza a Ucraini. Solo nel comune costiero sono oltre 300 le persone ospitate dentro le strutture ricettive che non hanno voluto accettare il trasferimento. Una questione che ora sta creando problemi agli albergatori che si ritrovano a dover continuare a derogare un servizio senza però essere pagati. Questo perché in diverse strutture è stato cancellato l'erogazione del contributo di accoglienza. Li hanno abbandonati nelle strutture, a Roseto ce ne sono circa 300 e ad oggi non abbiamo delle risposte. Per noi la stagione estiva è saltata e non sappiamo che cosa fare. Ci hanno detto di prenderli e buttarli fuori o non dargli i servizi che noi dobbiamo prestare ma noi non buttiamo fuori nessuno. Questa è la protezione civile, lo Stato e la regione che vengono qua e devono risolvere il problema su queste strutture che sono rimaste così appese. Lo status di profugo di guerra c'è, l'emergenza dura al 31-12 ma a quanto pare hanno creato un altro problema, l'emergenza nell'emergenza che è questo. Adesso si sta verificando a Giulianova, si sta verificando a Tortorento, a Martinsicura, al Badriatica però non si capisce perché in diverse strutture possono rimanere e in altre no. Questa è l'ennesima beffa di un sistema che da parte nostra ci chiede di essere regolari con le tasse, con le bollette, con il DURC ma di conseguenza abbiamo la risposta dello Stato che è questa è sempre vaga e scappa nei momenti che ci sono i problemi. Gli ucraini non vogliono andare via per le condizioni in cui versano le altre sistemazioni dislocate in altre regioni. Questo perché sembrerebbe che le strutture individuate dal Ministero dell'Interno in varie regioni si sono rivelate del tutto inadeguate o non ancora pronte per l'accoglienza. Siamo contattati da quelle persone che si sono spostate in Puglia, che si sono spostate in Campania ci scrivono dove non hanno il cibo, non hanno utenze perché gli stanno staccando le utenze ma soprattutto sono rimasti soli. Io spero che la magistratura, che la politica venga a vedere e vada a controllare queste persone abbandonate in questi paesi. Una situazione molto delicata, cosa chiedete? Chiediamo innanzitutto che venga affrontato il problema e risolto il problema perché, ripeto, la stagione estiva è saltata, noi non è che possiamo mantenerli a lungo così chiediamo di conseguenza che si facciano carico del problema.